Teuron Pichesur e Woody Allen rivela il titolo del suo nuovo film che girerà a Roma, il Festival di Cannes 2011 freme per l'arrivo del nuovo film di Woody Allen Midnight in Paris e il geniale regista new yorkese già rivela il titolo della sua prossima fatica cinematografica, come sapete Woody Allen ama le belle città e le sceglie come cornice unica delle sue pellicole. Proprio sulle pagine di Cinema 10 vi avevamo svelato che la scelta sarebbe ricaduta questa volta su Roma, stranamente mai considerata come location finora, ebbene il prossimo film di Woody Allen si chiamerà Teuron Pichesur e sarà girato interamente nella capitale. È stato lo stesso regista ad annunciarlo con queste parole, ho ingaggiato Alec Baldwin e la piccola Ellen Page, la rivelazione di Yuno. E poi Jesse Eisenberg, il protagonista di The Social Network. E poi Penelope Cruz, ah sì, mi sono ritagliato anche un piccolo ruolo, insomma il prossimo film di Woody Allen Teuron Pichesur avrà un cast ricchissimo e variegato, come del resto anche il nuovo Midnight in Paris che vede la partecipazione di Marion Cotillard, Carla Bruni, Michael Sheen, Raquel Mkadams, Adrienne Brody, Cathy Bates Owen Wilson e Tommy Deleston. Grazie a tutti.